L'Agenzia Funebre Armando Apicella opera 24 ore su 24, contattaci al numero in sovrimpressione. Buongiorno, mi chiamo Gennaro Cicalese, sono il titolare dell'Agenzia Immobiliare Quicasa.net che sta a Corso Mazzini 12 a Cava dei Tirreni. La nostra azienda è presente sul mercato immobiliare da circa 30 anni e ci occupiamo di intermediazione immobiliare. È cambiato moltissimo il mercato immobiliare. Ci sono state delle evoluzioni per fortuna. L'ultima, quella che poi ha fatto cambiare molte cose, è stata la pandemia dove le persone, soprattutto gli acquirenti, hanno cambiato le loro tendenze nel trovare immobili. Infatti ci cercano spazi tipo terrazzi, giardini e addirittura ci chiedono appartamenti un po' più grandi perché all'interno dell'appartamento stesso, oltre a vivere come nucleo familiare, vogliono anche una stanza per farci lo studio. Questa tendenza probabilmente si avrà ancora per altri due o tre anni. Non possiamo guardare molto a lungo perché proprio in un momento di cambiamento, proprio del mondo in generale, le tendenze possono cambiare. Ovviamente oggi per quanto riguarda invece poi la compravendita immobiliare attraversiamo un momento dove la burocrazia, dove le leggi, dove i documenti la fanno da padrone. Anche su questo è cambiato molto il nostro settore per cui noi come azienda vogliamo che quando appunto facciamo un'operazione commerciale i clienti, sia chi vende che chi acquista, lo faccia con la massima sicurezza. Infatti ci avvaliamo di tecnici specializzati, sia da un punto di vista proprio del tecnico inteso come geometra, ingegnere, architetto, e anche di un supporto legale per far sì che durante lo svolgimento della compravendita non ci siano sorprese, né che per la parte venditrice, ossia il venditore, che per la parte acquirente, ossia acquirente. Sono particolarmente emozionato perché lunedì prossimo, giorno 18 dicembre, alle ore 20, come azienda faremo una gala presso Palazzo San Giovanni a Cava dei Tirreni al Corso Umberto, alle ore 20, dove ci sarà appunto questa manifestazione dove vogliamo dare riconoscimento a tutta la nostra rete commerciale. È un momento dedicato all'azienda, dove facciamo essere protagonisti i nostri collaboratori. Ringrazio per la vostra attenzione tutti i telespettatori e nell'occasione, visto il momento dell'anno, faccio tanti auguri di Buon Natale e voglio augurare un felicissimo 2024.